Salve! Mi lasci in pace, se ne vada. Non volevo importunarla, mi scusi, arrivederci. No, beh, mi scusi lei, è che ci sono tanti maleducati. Eh, lo so. Mi chiamo Ezio. Poi mi sono laureato in ingegneria, ma non sono uno che pensa solo a lavorare. Amo il cinema, Almodovar. Anch'io, Almodovar è così esaustivo. Esaustivo, sì, stavo per dire la stessa parola. Non voglio fare la segretaria vita, la mia vera passione è la fotografia. Ho anche fatto una mostra, piccola però. Ho un libro di Cartier-Presson, te lo presto. Io sono del sagittario. Io cancro. Mi piace Sting. Lo preferivo coi polis. Eh, pure io. Ezio, tu sei diverso dagli altri. Insomma, contesto bene. Anch'io, Nadia, ecco. Senti, io... Ma sì, te la do. No, grazie allo stesso. Sei gay? No, sono dell'Inter. Noi interisti facciamo tutto al meglio. E alla fine, niente. Va già bene che non mi suicido qui. E nel DNA non posso farci niente. Addio. E io? Tranquilla, uno della Juve lo trovi sempre. E io? No, grazie. Grazie.